Buongiorno e buon inizio settimana a tutti voi cari telespettatori di FanoTV, come sempre in tanti sintonizzati al mattino in diretta alle 7.30 per seguire insieme a noi la rassegna stampa e quindi i titoli delle notizie più importanti che troverete sui quotidiani oggi in edicola, il resto del Calino ed il Corriere Adriatico, le edizioni di Pesaro e Urbino. Cominciamo dal santo di oggi, il calendario ci indica che oggi è San Leandro di Siviglia, il sole è sorto alle 6.25 e tramonterà alle 18.11. Per quanto riguarda il tempo non c'è molto da dire, nel senso che oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso, fa freddo già ancora 4 gradi circa qui sulla costa a nord della regione, 4 gradi alle 7.30 del mattino, poi andrà in salita fino a 12, 13, 14 gradi. Comunque oggi avremo anche qualche vento di brezza leggera, intensità comunque in attenuazione nel corso della serata. Per domani invece martedì 14 marzo avremo ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperature minime in diminuzione e le massime stazionali. Comunque avremo un tempo stabile, soleggiato anche per il resto della settimana, quindi sarà tempo buono. Andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico per cominciare la nostra segna stampa. Mentre Pesaro dice no agli accattoni, a quelli che chiedono le lemosine in giro per il centro, Fano deve fare i contri con praticamente decine e decine di poveri che chiedono le lemosine in ogni angolo del centro storico, presidiate tutte le aree di sosta. Il fenomeno si è accentuato dopo l'ordinanza che a Pesaro vieta di chiederle le lemosine. Dunque è come se da Pesaro queste persone si fossero spostate a Fano appunto per chiedere soldi ai passanti. Al Foro Boario, per esempio, dove c'è il parcheggio per andare all'ospedale, diversi extracomunitari sono insistenti parcheggiatori abusivi, poi ci sono i Rom e chi è in crisi economica. Quindi un po' di tutto. Nei giorni di mercato, come sabato scorso, arrivano a Fano persino anche da Rimini. E allora che cosa fare? Non si sa. Adesso bisognerà decidere un po' se prendere provvedimenti o meno, un po' come ha fatto Pesaro. Tombe malatestiane, sempre dalla pagina di Fano, la burocrazia ritarda il restauro, la ditta gamma lavorerà gratis ma vuole garanzie contro il guano dei piccioni. L'altra pagina di Fano del Corriere Adriatico sulla bonifica di Aset. Aset sta facendo dei lavori al quartiere Poderino. Ci sono però delle proteste perché l'asfalto che doveva essere sistemato dopo gli scavi appunto per effettuare i lavori da parte di Aset, l'asfalto è rimasto sconnesso. Dunque Aset bonifica la rete idrica ma lascia le strade dissestate. Protesta il Poderino, i solchi sulla carreggiata sono un pericolo in particolare per i ciclisti. Violato il regolamento comunale che impone di asfaltare non solo la trincea dello scavo. E ancora dalla Valle del Cesano è stata una nottata di furti. Furti in due case, due o tre case in aperta campagna, razzia nella notte, svaliggiate due case. I ladri hanno tentato altri tre furti, sono stati messi in fuga dai proprietari. Qui vedete la caserma dei carabinieri di San Lorenzo in campo. In meno di due ore, dalle tre alle quattro e mezzo circa di notte, i malviventi hanno visitato cinque abitazioni in aperta campagna, riuscendo ad arraffare nel complesso qualche centinaia di euro o poco altro. I colpi sono stati messi a segno tra San Severo e San Vito sul Cesano. Per entrare sono stati forati con un trapano gli infissi delle porte finestre o delle finestre. Insomma, ormai è un modus operandi che conosciamo bene. Mentre c'è la notizia sul quadriati o anche dei funerali della coppia di coniugi uccisi dal ponte, sull'A14, in Mille per l'Addio. Daniele, il figlio, applauso a mamma e papà. Il Vescovo di Ascoli rompe il cerimoniale ai funerali di Emidio e Antonella. I figli incensano la bara. A celebrare la Messa è stato il Vescovo di Ascoli, Giovanni d'Ercole, che ha detto non dimenticherete mai il dolore per aver perso tragicamente mamma e papà. Ma se guarderete la luce della fede potrete scorgere quell'umile fiammella che vi porterà e vi permetterà di andare avanti insieme, ha detto, rivolgendosi ai figli dei coniugi di Omede, i figli Daniele e Daniela. Monsignor d'Ercole dice la morte non spegne la vita, anzi ci fa vedere oltre. Vedete le immagini strazianti del funerale, la parte esterna della Chiesa. Da Senigallia ancora tentativi di raggirare anziani, furti, dobbiamo parlare subito con lei. Una nonna però ha capito che qualcosa non andava, fa fuggire i finti poliziotti. La signora Gabriella dice hanno bussato alla finestra in piena notte, però io ho chiamato mio figlio e così loro sono scappati. È stata svegliata questa signora, quest'anziana nel cuore della notte da finti poliziotti, pensate. Maria Gabriella ha però avuto il sangue freddo di accendere le luci di casa, chiamare il figlio fingendo che in casa non fosse sola, quindi è stata davvero brava e furba. L'anziana coraggiosa ha poi appreso che erano già entrati in una casa vicina, sempre in via Garibaldi, a Montignano, quindi è stata davvero scaltra. Odissea tra gli ospedali, rischia un occhio, una paziente di 94 anni è stata trasferita da Senigallia a Iesi e poi a Fabriano. Un'altra notizia che troverete sulla pagina del Corriere Adriatico di Senigallia. Da Urbino invece Business o Arte arriva il premio per chi eccella in diversi campi. Si chiama Universum Giovani 2017 e lo lancia l'Academy Switzerland. Andiamo sulla pagina di Pesero e Provincia invece per ancora parlarvi di furti che come vedete sono un po' a macchia di leoparto. Abbiamo visto poco fa nella zona di San Lorenzo in campo, poi a Senigallia. Qui invece siamo a Pesero, ancora furti a raffiche e bersagli di ogni tipo nel fine settimana. Nel mirino dei ladri ormai rientra tutto, anche oggetti di poco valore. Perché? Perché c'è la crisi, nessuno ha più una lira, cominciano davvero. Ormai siamo alla frutta, siamo alla frutta e c'è chi se la ride, però siamo alla frutta. Questo è il problema. È successo anche che un minorenne è stato sorpreso all'Iper a rubare delle cuffiette, all'Iper di Pesero, però poi probabilmente avrà fatto pena questo ragazzino e quindi non sarà denunciato. Svaliggiato invece un baragabici, i ladri razziano il fondo cassa e fanno incetta di liquori. Sfondano i lunotti alle auto in sosta per appropriarsi di borse e portafogli. Insomma, questa è la situazione. Mentre Renzi, Ricci e Morani si fanno un bel selfie all'ingotto tutti contenti e felici. Dalle vasche si passa ai fornelli e Magnini studia da Masterchef. Il campione conquista un altro oro ed esordisce nel talent culinario riservato ai VIP. È la foto di Magnini che parteciperà all'edizione che è stata registrata lo scorso inverno a Milano, l'edizione di Masterchef Celebrity. Quindi ai fornelli ci saranno le persone famose, insomma, quelle che vanno e che hanno un ruolo importante nella società. Allora, via San Francesco invece a Pesaro. Si cambia. Firmata l'ordinanza per l'avvio dei lavori. Sulla carta almeno tre mesi di interventi. Si procede in più fasi, da metà settimana. Le modifiche alla sosta e alla circolazione. È un progetto da un milione e mezzo di euro per la passeggiata Porfido e LED, ma spariranno i posti auto. Questa è la pagina di Pesaro. Adesso invece andiamo sul resto del Carlino. La fotonotizia in prima pagina è per il problema dei gazebo. Gazebo City. Che cosa succede a Pesaro? Succede che bar e ristoranti si allargono con disinvoltura occupando abusivamente gli spazi pubblici. Ora la Polizia Municipale sta procedendo con i verbali e l'ordine di rimozione delle strutture. Guardate la pagina. Sono due pagine, però ne prendiamo una. Ecco. Marciapiedi come salotti di casa. Tende, tavoli, rococò, stufe e mobili. Abbaia, Flaminia, verbali per abuso edilizio, alla Gianlò e Vini Crostini. La Giunta però sta mettendo appunto con l'assessore delle noci un regolamento possibilista. E questa è la situazione dunque che c'è a Pesaro. Quindi questi marciapiedi addirittura diventano proprio come fossero dei salotti. Poi c'è la storia, la storia di un padre disperato che non si dà pace per la morte del figlio. 22 anni fa morì nel 1995. Morì il figlio, il figlio di Francesco Miccoli. Miccoli si chiamava Lorenzo. È morto il 2 marzo del 1995 nel reparto di amatologia diretto allora da Guido Lucarelli. Il ragazzo viene ricoverato lì perché faceva il militare al reggimento Pavia. Il referto dice insufficienza epatica acuta in soggetto affetto da leucemia acuta linfoblastica. Però il padre sostiene che Lorenzo è morto a causa di un trattamento chemioterapico eccessivo o per una infezione virale. In ogni caso per colpa dei medici che al tempo lo avevano in cura. Da 22 anni ogni volta una porta in faccia, però torna alla carica, lo fa con un articolo e con un'intervista sulla pagina 2 in Pesaro primo piano del resto del Carlino di oggi. L'amore per un figlio. Sacco di rifiuti, sacco di rifiuti per strada, occhio alla traccia, i vigili fanno le multe anche se non vedono. Il caso di Montecchio, di una signora di Montecchio condannata a pagare per il nome su una busta e quindi i vigili che poi controllano, aprono e cercano scontrini e quant'altro per risalire a chi ha buttato via questo sacchetto dell'immondizia. Non è vincolante cogliere sul fatto dunque il trasgressore ma identificarlo e dunque basta anche che dentro ci sia per esempio una lettera. Ok, noi ci fermiamo qui con... no, c'è l'ultima pagina, scusate, l'ultima pagina del resto del Carlino. Intanto per dirvi che oggi pomeriggio alle 3 ci saranno le esequie per Morris Furlani, il 41enne fanese precipitato giovedì scorso dal tetto della Profilglas di Bellocchi di Fano mentre stava lavorando, dunque oggi il funerale alle 15. Vediamo se dice anche dove... sì, ecco, la Salma partirà dall'obitorio per raggiungere la chiesa di Santa Maria Goretti nel quartiere a Sant'Orso e infine l'ultimo viaggio verso il cimitero di Cartoceto per la tumulazione. Poi c'è anche l'altra notizia che riguarda l'Istituto Livetti di Fano che scrive una canzone per Ivan Cottini, il modello che da tempo lotta contro la sclerosi multipla, che ha toccato il cuore degli studenti dell'Istituto Livetti e che hanno scritto e cantato un brano originale dedicato appunto al guerriero del Montefeltro. Ha collaborato anche il gruppo dei Lolliman. Il ricavato sarà divoluto appunto all'Aism, che è l'associazione italiana sclerosi multipla. Allora è tutto davvero, noi ci fermiamo qui per la segna stampa, torneremo domani mattina alle 7.30. Vi ricordo che per le vostre segnalazioni potete mandare un sms, un whatsapp a questo numero qua, 3849 68 250. Noi ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Buona giornata a tutti.